Oggi abbiamo voluto creare un seminario molto importante per tutti i tecnici, ma anche direi i professionisti in genere, cioè comunicazione e leadership. Abbiamo invitato noi ingegneri, tutte le associazioni professionali, gli ordini per partecipare a questo seminario tenuto da Passafaro che è il direttore artistico del Stato Comunale ed esperto di comunicazione. Riteniamo che sia una cosa molto utile per i professionisti perché la comunicazione è fondamentale oggigiorno per portare le proprie idee alla portata di tutti, per avere la possibilità di essere capiti in maniera succinta, in maniera concreta ed essere efficaci nel mondo del lavoro. Ecco perché abbiamo invitato tutte le professioni e molte di queste hanno aderito, tra cui i i periti, i geometri, i commercialisti, sono qui con noi in questo seminario che si sta tenendo. Subito dopo avremo la possibilità di organizzare un corso sempre con Passafaro per chi volesse seguirlo che ci aiuterà appunto in questa importante disciplina della comunicazione e leadership che, ripeto, per i professionisti lo riteniamo molto importante. Io sono l'ingegnere Cosco Fabio, consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro e ho voluto, insieme al mio presidente Gerlando Cuffaro, ho voluto fortissimamente che venga realizzato questo primo seminario sulla comunicazione e sulla leadership, sulla tecnica del linguaggio. Questo perché? Perché è fondamentale nel 2024 comunicare, saper comunicare in maniera efficace e assertiva, empatica. Negli anni le strategie comunicative sono cambiate tantissimo, dalle comunicazioni tradizionali siamo passati alle comunicazioni digitali, tant'è vero che ormai viviamo nell'epoca dei social, dove ne fanno tra i tanti social più importanti, abbiamo Twitter, Facebook, Instagram, insomma sono le più disperate e anche noi tecnici ovviamente usiamo tra le nostre strategie comunicative per poter comunicare il nostro lavoro in maniera più diretta ed efficace usiamo questi social. Viviamo in un'epoca dove ormai le strategie grandi società multinazionali ma anche le più piccole reclutano, ci reclutano, reclutano i tecnici, i colleghi, i professionisti tramite i profili social e ormai è diventato un social, il social recruiting è stoganato. Quindi è fondamentale saper comunicare oltre che di persona anche sui canali digitali. Quindi l'obiettivo di questo seminario al quale poi farà seguito un corso vero e proprio sono due, uno è la comunicazione e uno è la leadership perché a questo corso, a questo seminario stanno partecipando dirigenti e funzionari pubblici, presidenti di ordini ma anche titolari di società e di studi di ingegneria. Quindi diventa fondamentale il ruolo del leader, il leader è colui che deve essere in grado di raggiungere degli obiettivi, questi obiettivi vengono raggiunti dal leader, dal leader capace di saper comunicare, di trasmettere quelle che sono l'imprinting, il know-how, il brand della società o del proprio studio e colui che riesce, che è capace di comunicare e creare delle relazioni con i vari cellcord.